Ciao a tutti, io sono Edoardo e oggi vi porto il mio primo video su Brawl Stars. È un gioco che mi piace molto e se lasciate 10 mi piace vi porto un nuovo video su Brawl Stars. Siamo sul menu principale, andiamo a vedere il nuovo evento, RF Jam. Ci mancano un po' i gettoni. Adesso andiamo a prendere i due bigliettini gratuiti. Vorrei cercare di trovare un Brawler magari oggi. Ci mette 30 anni a caricare. Ho acceso ancora perchè non mi andava. Riapriamo i due bigliettini. E ce li ho dati. Andiamo indietro. Oggi giocheremo su Sopremense in solo in mille laghi. Sempre. E proveremo a vincere con il primo. Spero che vi piaccia come gioco. Spero che vi piaccia come gioco. Fuori. Come io. Vado al centro. Aspettate perchè. Ho già. Oh grazie mille. Ho risparmiato ai colpi. Questo è il centro. Che male. Viva. Attento a Karl. Attento a Karl. Attento a Dana Mike. Sto per morire. Aspetta che vado via. Faccio la puzza. Mi curo. Quarto che credo. Quarto. Adesso sono andato al grado 12 di il primo. Adesso mi posso quasi aprire una cassa. Ci facciamo un'altra partita. Sempre con il primo. Poi se volete vi porto anche un altro personaggio. Attenzione a Colt. Attento a Shelly. Che Shelly è la più cattiva. È un brawler fortissimo. C'è la cura che a me non serve. Però sto qui. In caso di. Faccio un penny. Che non ho fatto fuori. Perchè. C'è un bull. Sto per morire. Se mi colpisce. Ecco no. Adesso sta recuperando la vita. Cerco sempre di giocarmela. Di giocarmela all'ultimo. Perchè. Così almeno arrivo. Prima in posizione più alta. C'è un altro il primo. Che mi vuole attaccare. Lo sto inseguendo perchè ho più vita di lui. Se no non lo avrei mica inseguito. C'è un bull. C'è un bull. Aspetta. Lei ha meno vita di me. Ma comunque può far male. Andiamo via. Da qua. Quante rose ci sono. Oggi. Un sacco di rose. Scappiamo. Scappiamo. Grazie. C'è un'altra penny qua. Che mi ha fatto un male cane. E mi ha fatto fuori il quinto. Sono arrivato. La mente era un panino. Perchè dall'altra parte c'era una rosa e bull. E dall'altra parte avevo un penny. Posso aprirmi una cassa. Come vedete ho quasi sbloccato da una mic qua. Ci apriamo una cassa. Bruller. Vediamo cosa troviamo. 50 monete. 5 punti energia dignità. E 6 punti energia di Brock. Adesso cambiamo modalità e brawler. È da tantissimo tempo che non uso il pocio. Quindi secondo me è l'occasione. E vorrei provare ad utilizzarlo. In football. Non l'ho mai utilizzato in football il pocio. L'ho utilizzato solo in sopravvivenza. Che mi sa che è anche utile in sopravvivenza. Perchè se hai il compagno in pericolo. Puoi curarlo con la bibita speciale. Un ucciso. Il nostro Frank sta girando a tondo. Ma finalmente si è svegliato. Oh grazie. Ma perchè ha tirato il bombardino? Vabbè. Ok attenzione qua. Attenzione. Attenzione. Qui c'è la palla. Ce l'ho sbagliato. Frank dai. Per chi vuole sapere il mio brawler preferito. Di epico è Frank. Ma il preferito in assoluto è Crow. Il leggendario. Quello che avvelena. Come hanno fatto? Come hanno fatto? Ci hanno fatto volo adesso? Dopo questa partita chiudo. Il mio compagno continua a morire. E intanto si è curato. Non c'è un colpo. Non c'è un colpo. Ok. Ucciso. Abbiamo perso. Quante colpe abbiamo perso? Meno due. Mi aspettavo di più. Vi saluto. Ovviamente mandate per dirci mi piace e vi faccio un nuovo video. e scrivetemi se vi piace questo gioco o che porto altri giochi.